Allora, una soddisfazione e una nota di colore. Vent'anni fa, ho fatto il calcolo un po' a memoria, in un albergo di Milano si tenne un'assemblea federale come questa. La notte prima si tenne la segreteria, che doveva indirizzare i punti, questa era la linea, la strada del progetto della Lega. Si partì molto male, perché? Perché l'allora segretario veneto, Franco Rocchetta, partì dicendo, bisogna togliere qualcosa a qualcuno. E si iniziò a scrivere, bisogna eliminare le autonomie speciali. Io, il segretario del Friuli e della Val d'Aosta, si disse, ragazzi, togliamo il disturbo, noi non possiamo andare a casa nostra a dire che facciamo marcia indietro, la storia ci ha portato a questo punto. E grazie anche all'intervento illuminato di Miglio, disse, ragazzi, non si vincono battaglie inserendo marcia indietro, dobbiamo spingere verso il futuro e le aspirazioni che devono essere questi modelli. Oggi, in questo tavolo, o ieri in questo tavolo, oggi ratifichiamo, si dice esattamente questa cosa. Qualche popolo ha già ottenuto libertà, autonomie maggiori. Noi non possiamo, tutta la padania o tutto il Paese, non può pretendere di rimanere schiacciato, ma deve poter ambire ad avere le stesse autonomie, le stesse progrative, gestirsi le proprie risorse e gli strumenti li abbiamo in mano, usiamoli, questa è la strada. Io dico, questa è la strada giusta e ci saremo tutti, noi autonomi e chi ancora non lo è per raggiungere l'obiettivo. Ho un problema, rapidissimo, che non so neanche dove collocarlo, se è di natura culturale, se è di natura tradizionale, se è di natura economica rurale. In Trentino, Roberto, oggi, e mi è stato comunicato adesso, per cui non ho potuto dirvelo ieri, hanno iniziato a fare delle retate, è iniziata la vendemmia, delle retate nei campi dove si vendemmia per verificare se i lavoratori sono tutti in regola. Da noi, ma penso dappertutto, soprattutto le piccole aziende, mi pare che in Sicilia, ma neanche a Sarno con i pomodori vanno a controllare, mi pare lì. Beh, da noi la vendemmia è una festa, e la festa si consuma, le famiglie tradizionalmente si danno una mano, si aiutano, i parenti, gli amici vanno ad aiutare. Non è possibile che la nostra economia debba affondare le nostre tradizioni, debbano saltare, perché parliamo anche di economia, per controlli e burocrazia, che io devo definire sciocca, controproducente e antistorica. Noi non potremmo fare niente, ma mi piacerebbe che questa, Roberto, segretario, che questa assemblea oggi potesse almeno esprimere solidarietà verso quei lavoratori che oggi si trovano in queste condizioni. Grazie.